Ciao a tutti, ormai sono passate due settimane e qualcosina in più dal nostro rientro dall'estero. Eravamo a Palma di Mallorca a disputare il campionato del mondo. Qualche giorno prima dell'inizio la FIV ha deciso di farci rientrare in Italia e infatti poi hanno annullato tutte le gare e tutte le manifestazioni sportive lì in Spagna. Due settimane di quarantena difficili, lunghe, soprattutto davvero lunghe. Difficile stare a casa e riuscirsi ad allenare, però cerchiamo di fare quello che si può con qualche circuito, qualche allenamento fisico di preparazione atletica per mantenere lo stato di forma abbastanza buono. e speriamo presto di poter tornare a navigare il più presto possibile.